Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo video, video aggiornamento, video quanto tempo che non ci vediamo, video che fine ha fatto Sebastiano che non si vede più nei video e di ultimo parla che sembra Alexa. Vabbè, devo dire che è un periodo molto impegnato della mia vita perché finalmente sto inseguendo uno dei miei sogni che ho sempre avuto fin da bambino e finalmente forse si concretizza quest'anno, almeno in parte, spero che questo sia solo l'inizio di, non so se definire la carriera, però almeno di un lavoro che ho sempre voluto fare perché non ve l'ho mai detto, forse vabbè, insomma di ultimo qualcuno che mi segue magari su Instagram l'avrà già intuito, ve ne ho anche parlato in alcuni video passati, però finalmente mi sto dedicando allo sviluppo di videogiochi e non vedevo l'ora di parlarvene, ormai è insomma comunque quasi otto mesi che stiamo lavorando a questa cosa, ho aperto anche la mia azienda qui in Giappone, Seraphini Production, sono molto contento, sto lavorando a un videogioco, un videogioco horror in prima persona che si chiama Unfollow, sono veramente contentissimo di aver visto tutto il supporto che mi hanno dato tantissimi creator, veramente non mi aspettavo così tanto support da comunque amici, però sai, quando realizzi un progetto così, insomma, mi fa molto piacere vedere che mi hanno dato fiducia a queste persone, in primis, vabbè, ma non c'è in primis perché sono tutti importanti, quindi non saprei da chi iniziare, comunque questo gioco tratterà di social media e quindi tante cose legate al mondo dei social, o comunque questa realtà che stiamo vivendo, tratta di temi molto attuali che non ho mai visto trattarti in un horror e soprattutto il fatto che tratti di social media e che ci siano così tanti influencer italiani, per lo meno, ma forse anche esteri per la versione inglese, vedremo coinvolti, mi fa super piacere. E per farvi qualche nome, nel titolo ci sarà Elisa True Crime, Barba Scura, L'Occhio Creepy di YouTube, che tra l'altro è anche nella mia agenzia, non so se qualcuno sa che comunque tutti i video che sta pubblicando Silvia sono editati comunque dal mio team e veramente con lei, guarda, se non fosse stato per lei probabilmente non sarei qui in questo momento perché siamo diventati veramente amici e mi fa piacere che ci sia questa collaborazione, e anche rapporto così d'amicizia, sono molto contento e infatti mi fa molto piacere che ci sia questa relazione con Silvia. Poi vabbè, potrei andare avanti veramente, per esempio ci sarà Soul Mafia nel gioco, Leo, Bertra, Marion Blue, che anche è stata gentilissima, e la storia che è stata coscritta anche in parte con Lilletta Eli, che anche lei ha dato un grandissimo supporto e grazie a lei stiamo anche lavorando a un altro titolo, che è già annunciato sul sito, in collaborazione questo anche con i ragazzi d'Intel, che anche alcuni di loro parteciperanno al titolo di Unfollow, tra cui Luca Occhi e Gian Andrea, e mi fa molto piacere questa cosa. Diciamo che però, a parte il numero di influencer, è un titolo penso piuttosto solido, direi, insomma, e soprattutto anche la protagonista di questo gioco, che è Kenoya, cioè diciamo che ognuno, cioè c'è chi ha prestato i volti, chi fa un cameo, chi fa un personaggio, per esempio c'è Violetta Rox, che interpreterà una vlogger di cucina, quindi diciamo che abbiamo cercato di dare un ruolo interessante un pochino a tutte le presenze, tipo c'è Shanti che fa la beauty vlogger, quindi diciamo che tutto abbiamo cercato di giustificarlo in modo abbastanza intrigante, io credo e spero davvero che vi piacerà quello che siamo riusciti a creare. Tra l'altro appena adesso abbiamo anche realizzato un manga che sarà presente all'interno del gioco, e veramente, cioè non ci credo di quante cose stiamo riusciti a fare, e sono anche riuscito a inserire la mia musica collaborando con Shirelle, Andrea Greco, Daniela, Eccobato, Kinri, non vi ho nominato Kinri, Kinri è anche nella mia agenzia, Kinri è questo mio amico, non so se lo conoscete, però ha un milione e mezzo di iscritti, per qualche motivo sto facendogli io da manager, diciamo che gli ho scritto una canzone che potrete ascoltare, ma forse ce ne sarà anche più di una, quindi sono talmente tante novità che sembra un elenco della spesa a questo video, però tutto questo per dirvi che so che durante questi mesi, che non mi sono fatto vedere perché sono passati veramente nove mesi, mi sa dall'ultima volta che ho fatto un video non mi si vede, salvo un video unico che è uscito sull'altro canale, però veramente è tantissimo che non faccio un video aggiornamento e mi spiace, però, cioè, sapete, un giorno a 24 ore io lavoro anche a tempo pieno in un'altra azienda di videogiochi, anche per imparare cose, veramente mi piace un sacco poi leggere picce di videogiochi che vengono proposti, anzi, se avete dei videogiochi che volete proporre, proponetemeli, perché magari, boh, non vi dico io, perché ormai abbiamo già 4 videogiochi sviluppo per il 2023, quindi se non aggiungiamo è meglio, però attraverso l'azienda videogiochi con cui lavoro, magari se c'è qualche progetto interessante, lo posso proporre più che volentieri e non so se siete dei 3D artist, se siete, insomma, delle persone che vogliono collaborare in qualche modo, voi mandate il curriculum, magari, non lo so, potrebbe essere che si potrebbe collaborare, anche se siete degli sviluppatori, in particolare su Unreal Engine noi utilizziamo di più, però anche su Unity, magari se ci sono dei progetti mobile, potrebbe essere che si potrebbe collaborare assieme, voi mandate il vostro curriculum, adesso siamo diventati in otto alla Serafini Production, più collaboratori esterni, siamo una quindicina di persone, però speriamo sempre di aumentare e la cosa che più mi piace di questa azienda è che siamo tutti molto amici in primis e c'è proprio un bel rapporto, perché per esempio c'è all'interno un'amica mia che conosco da non so da quanti anni, da quando veramente andavo all'asilo, che è entrata, si chiama Arianna, poi abbiamo Sabrina, e poi ci sono gli sviluppatori, Mattia Alfonso e anche altre persone che hanno aiutato, che veramente se non fosse stato per tutte queste persone non sarei qui in questo momento, quindi mi fa davvero piacere e pian pianino si stanno anche spostando in parte in Giappone, infatti a breve arriverà una persona a febbraio, non voglio spoilerare troppo, e anche arriverà poi un'altra, d'altre due persone forse verso maggio-aprile, quindi insomma la Serafini si ingrandisce, oltre alle persone che lavorano dal Giappone, che anche lì insomma ne abbiamo altre. Dunque poi tutto questo per dirvi che se volete saperne di più sui miei videogiochi, io vi invito a seguirmi sul mio Instagram, sulla pagina di LinkedIn e anche su il sito, andatevi a descrivere al sito che così quando ci sono novità, se riusciamo un attimo a capire come funziona, ve le invierò personalmente e vi manderò anche la demo gratis appena è pronta, che non dovrebbe essere tra tanto. In teoria se tutto va bene, tra il 6 di febbraio e il 13 di febbraio dovremmo partecipare alla Steam Fest con una serie di vari live che organizzeremo, dovremo anche un po' spicciarci ad organizzarle, però finalmente mi rivedrete in video, yay, durante queste live potremmo giocare e divertirci assieme in questa demo. Devo dire che questo gioco è profondo, però non so quanto trappelerà nella demo, quindi se ci sono delle cose che non vi tornano sappiate che fanno parte di un progetto più grande che capirete solamente giocando al gioco completo, ma fate molta attenzione a tutti i piccoli dettagli che vedrete in questa demo. Bene, questo sprolocchio era un po' per aggiornarvi, un po' per dirvi che va tutto molto bene, e devo farvi un tour dell'ufficio a Shibuya appena ho un po' di tempo, non vedo l'ora di farvelo, magari chiedo, non lo so, beh, appena ho una telecamera perché ho anche rotto la fotocamera tra le altre cose e ve lo faccio volentieri. Però questo per dirvi che sto bene, sono contento per chi è rimasto ancora su questo canale, non sapete quanto vi ringrazio, proprio grazie, so che ormai siamo diventati veramente pochi, ma voi siete i migliori, voi che siete rimasti fino alla fine, e spero davvero che questo titolo non vi deluderà. So che magari i giochi horror non sono per tutti, ma tranquilli perché la Serafini non fa solo giochi horror, ma ci saranno anche altri titoli che spero vi piaceranno anche per, non lo so, i giocatori di Super Mario 2D, magari ci sarà qualcosa a tema, non lo so, ne parleremo comunque nel corso dei prossimi video. Bene, quindi mi raccomando, iscrivetevi al sito, se volete iscrivetevi anche a Kickstarter, senza impegno ovviamente, trovate tutto comunque nel sito, e niente, spero che, ditemi anche se vi piacciono questi video aggiornamenti, o se è meglio se non ne faccio più perché vi annoiano, un saluto e grazie anche a tutte le persone che editano i video, perché devo dire che con tutte queste cose che ho da fare le sto sentendo un po' meno, però davvero grazie a Giuseppe, grazie a Lisa e a tutte, Andrea anche, a tutte le altre persone che stanno lavorando anche agli editing di questi video, perché senza di voi io non riuscirei più a fare video, quindi vi ringrazio davvero di cuore. Bene, io vi faccio un saluto e spero di vedervi allora durante lo Steam Fest, speriamo a febbraio, e se no vabbè sicuramente ci saranno occasioni. Un saluto da Seba e alla prossima, ciao! 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 Ciao!